Gli ultrasuoni possono essere utilizzati per le ispezioni elettriche a tutti i livelli di tensione, bassa, media e alta. Possiamo rilevare problemi come corona, scarico parziale o trekking, arco elettrico, allentamenti meccanici sui trasformatori. Utilizzate un disco parabolico o un modulo a lungo raggio per ispezionare a distanza di sicurezza. Controllate gli armadi chiusi senza doverli aprire. Per le ispezioni elettriche si consiglia uno strumento ad ultrasuoni con registrazione audio. I diversi guasti hanno un loro schema sonoro, quindi è importante registrare il suono e analizzarlo per una diagnosi corretta. Controllate gli armadi chiusi senza doverli aprire. Grazie.